Ciao, da Marcello Messini, struttore Cinofio. Oggi parliamo dell'American Pitbull, una delle razze più discusse sui social media, che sono soggetti che sbrano proprietari, cani killer e cani pericolosi. Quanto c'è di vero? Dicevo che l'American Pitbull in realtà è stato considerato un ottimo cane da compagnia e un ottimo cane per attività assistita agli animali, in quanto riesce a sopportare lo stress molto meglio di molte razze canine. È una razza non riconosciuta dall'ENCI, dall'FC, esiste lo standard UKC e adibia. Il Pitbull in realtà sì, è un po' testardo, ma è un ottimo cane, molto versatile, un buon cane a compagnia, utilizzato anche in attività di ricerca, di soccorso e di protezione civile. Ho un amico che saluto, anzi Andrea, si chiama On, che lo utilizza in soccorso in acqua. Tantissimi amici che utilizzano loro nelle ricerche di macerie e persone scomparse. La mia esperienza con i Pitbull è sempre positiva, sono degli ottimi cani, ovviamente da tenere in considerazione, purtroppo, la loro storia, la loro natura, in pari passata, e quindi con gli altri cani è corretto farlo socializzare il prima possibile. E se non deve essere amico degli altri cani, non crea altro problema. Segui un percorso educativo che ti aiuterà nella pace, nella gestione e nella comprensione del cane.